ci siamo ragazzi buongiorno a tutti questa mattina ci troviamo camigliatello silano in occasione della sagra del fungo porcino quindi mi raccomando ragazzi venite se siete in zone limite allora adesso incominciano le persone ad arrivare amore mio lei fa parte dello staff ci vediamo dopo con una pizzica l'ataranta non c'è il nome di direttamente ma non c'è l'altro Grazie a tutti. 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 a tutti. come vedete. noi, ci trovate,